Mi rivolgo alle persone capaci di usare la loro intelligenza senza prevenzioni. Io affermo, su base assolutamente razionale, che la verità si è nuovamente ripresentata nel nostro mondo reale. In una persona fornisco le prove di tutti i tipi e invito le persone libere di valutare con la loro intelligenza e in modo disinibito tutte le cose che ascoltano a prendere in considerazione questo caso perché è di assoluta rilevanza ma sfugge proprio perché nuovamente la verità ha assunto quell'aspetto assoluto che si presenta in quel modo ideale che è posto alla base del nostro modo di vedere questo modo ma usando quella via uguale e contraria che è indicata dal terzo principio della legge dinamica che mostrando questa nostra realtà non mostra la realtà in atto ma mostra esattamente quella relativa che è sempre quella uguale e contraria alla prima che è in atto ma che è vista solo nella seconda che è uguale e contraria. Ora, quando questo si presenta come intelligenza e come verità, noi abbiamo la presenza di due verità una, quella fondamentale, l'altra, quella relativa che è vista in modo uguale e contrario a quella fondamentale. chi è inibito in questa capacità di usare la ragione e considera solo la ragione immediata che percepisce in modo secondario e non è capace di scorgere al di sotto di essa quella verità uguale e contraria che trascende proprio a questa nostra realtà beh, chi è così non è in grado di avere una idea assolutamente perfetta della verità e giace in quella venità unilaterale che è quella della nostra esistenza quindi io mi rivolgo all'intelligenza veramente libera che esiste oggi nel mondo per considerare il caso specifico che è capitato a me La fecondazione di Maria, la madre di Gesù, fu divina Maria era una madre ria da lapidare perché aveva avuto un figlio che non era frutto di un matrimonio celeste ebbene, allo stesso modo accade in me, nel pario nel padre malvagio nello stesso modo perché accusato di essere fecondato direttamente da Dio e non da figure umane ebbene, in questo lavoro ci sono 1126 spunti illogici per una logica dell'altro mondo divina sulla parousia di un padre rio quando io affermo che Dio in me ha assunto la sua croce non lo dico tanto per dire io sono un personaggio modesto assai se non fosse così la cosiddetta intelligenza da tempo immenso se ne sarebbe accorta ma accade che Isio sia straordinariamente vero in tutte le cose che dico solo che esse seguono la logica dell'altro mondo quella che perfettamente trascende questo mondo e che è una logica che qui sembra una cosa assolutamente priva di senso pertanto Dio ha assunto la sua croce nel mondo relativo assumendola in me e nel mio vero apparire l'ultimo in questo mondo di cotanti sapienti ma state ben attenti tutti chi qui è un vero, vero, vero ultimo uno che è stato perfino giudicato tale proprio dagli ultimi due papi la cui chiesa mi ha inferto due nuove vere condanne a morte per quell'attesa parousia del Cristo avvenuta davvero in me ma increduli e sdegnati si sono di nuovo tutti e due stracciate le vesti attenti tutti chi qui è un vero, vero, vero ultimo è il vero e primo Dio padre nel regno di Dio bene, per poter prevedere tutto occorre fare una bella indagine divisa in quattro campi il primo occorre fede certa, assoluta poi occorrono opere trascendenti occorrono segni straordinari e occorre la vita secondo Cristo il primo, fede certa, assoluta è risolto in maniera brevissima Romano Amodeo crede che tutto il mondo sia opera di Dio e quindi ha una fede assoluta in Dio appunto che crede che come un vero creatore che scriva un'opera scrive un'opera nella quale poi sembra che ci siano dei creatori autonomi ma essi in questo mondo relativo devono il loro disegno a chi unico lo ha fatto ed è Dio opere trascendenti occorre che la vita di Ra abbia queste opere per essere significativa ebbene Ra ha operato la vera sconfitta della morte essendo ogni dinamica l'interazione ossia il prodotto tra un'azione diretta e quella relativa uguale e contraria il loro prodotto è certamente di segno negativo come ci convince l'algebra nel prodotto tra tutti i segni opposti pertanto la vita relativa che noi percepiamo vedendola andare nel futuro in segno positivo e nel suo aspetto corporeo è solo la reazione all'azione diretta uguale e contraria spirituale e negativa che viene certamente dal futuro quindi se la nostra vita viene dal futuro il nostro spirito vitale ha già oltrepassato il punto della morte tanto da essere rifluito nel suo passato e ha annullato tutto quanto era in essere nel momento della morte facendolo retrocedere al prima che ciò avvenisse che appartiene ad ogni attimo della vita quindi in questa vita abbiamo la prova della sua dipendenza da una vita umana già risolta Ra deve avere realmente vinto la morte con un vero miracolo ed è accaduto a due anni e mezzo un vero miracolo ha indotto un medico a dire questo bambino ha vinto la sua morte ok occorre che anche la vittoria ideale sulla morte sia riferita a Gesù Cristo e infatti Ra lo fa perché fa rientrare il suo modo di intendere la vita in azione e reazione alla comunicazione che fece Gesù a Nicodemo quando gli disse che la vita aveva due linee di evoluzione una dell'acqua e un'altra uguale e contraria secondo la dinamica dello Spirito Santo di conseguenza questa vita in azione e in reazione che Romano Amodeo sostiene si riconduce alla spiegazione che Gesù diede a Nicodemo Ra poi deve avere anche espresso il giudizio universale e infatti lo ha fatto il giudizio universale è questo Dio Onnipotente è il sistema integrale di tutto il possibile e l'impossibile il suo puro spirito è il significato essenziale della sua pura e assoluta verità questa ha pertanto ogni possibilità spirituale di materializzarsi e impersonarsi in modo corporeo soggettivo e spirituale in ogni possibile limite ed in ogni possibile croce soggettiva di conseguenza Dio si è fatto singolo per ottenere una vittoria assolutamente libera nel libero arbitrio dello Spirito soggettivo affidata alla libertà assoluta e imprescindibile di ogni soggetto in cui Dio si è calato Ra deve sapere dare in verità ad ogni uomo una possibilità infinitamente grande infatti gliela dà quando spiega per quale motivo ogni spirito sarà chiamato a bussare e per come disse esattamente Gesù gli sarà aperto nel modo esatto nel quale ciascuno liberamente avrà bussato Ra deve fare molto molto di più che potere perdonare i peccati e infatti li annulla perché sostenendo che tutta l'evoluzione sta andando nel passato in cui tutto non era ancora esistente ogni apparenza di peccato è retrocessa al prima del suo stesso accadere Ra deve sapere fare di più molto di più che potere sconfiggere i diavoli e infatti li sconfigge in assoluto perché retrocedendo tutto sempre al prima perfino la ribellione iniziale di Lucifero è annullata Ra deve poter fare ancora più di Gesù ma senza minimamente offenderlo e infatti spiega perché è possibile è il padre che opera in Ra e il padre è più del figlio ma il padre non sorpassa il figlio il padre è l'esatta spiegazione coerente alle cose dette dal figlio Ra deve poter portare tutti in paradiso pur confermando l'esistenza dell'inferno e infatti lo fa all'inferno Ra manda i personaggi cattivi non le anime dei personaggi quando dalle anime dei personaggi verrà tolta la zizzania rimarrà l'anima pura e essa andrà in paradiso e lo avrà per come avrà bussato Ra deve poter introdurre novità assolute senza essere un'apostata e lo fa in modo semplice confermando il primo comandamento io sono il signore unico creatore del mondo di conseguenza nessun altro è un creatore che sostituisce il primo Ra deve poter azzerare tutto perfino l'universo reale dimostrando così il suo pieno dominio sulla realtà e infatti Ra lo fa attraverso il principio di azione e reazione poiché noi vediamo l'azione sulla base di una reazione che la annulla tutto quello che è all'origine del mondo che appare fatto è un mondo che si azzera ricondotto nel suo puro essere in potenza Ra deve poter spiegare scientificamente la verità del dogma dell'unità e trinità di Dio e Ra lo fa attraverso il caccolo matematico di 10 elevato a 0 uguale 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1 sono 3 enti assoluti coinvolti in un'equazione tra uno e l'interazione di due opposti in linea generazionale come lo sono tra loro il padre e il figlio Ra deve poter sapere trasformare l'imperdonabile peccato d'orgoglio di voler essere Dio trasformandolo in un grandissimo merito bene quando veramente si è capito che Dio è chi serve alla messa in opera del mondo e non di un mondo da dominare ma di un mondo a cui Dio è asservito ecco che chi vuole essere un servitore ha un grandissimo merito non lo ha se intende Dio come un despota e allora sarebbe un grandissimo peccato voler essere un despota Ra deve dimostrare di conoscere le condizioni assolute cui riferire la relatività generale e infatti lo fa dimostrando come nell'equazione dell'unità e trinità di Dio 1 uguale 10 decimi sta l'origine stessa della relatività generale di Einstein e così facendo Ra la sa ricondurre proprio a Gesù attraverso quel ciclo 10 a cui la fisica piegò ogni unità della fisica e Ra deve poter certificare che non inganna nessuno in tal modo lui Amodeo non è il diavolo biblico Asmodeo e infatti Ra lo dimostra facendo questa domanda può un diabolico Asmodeo desiderare di morire in se stesso affinché in lui viva Dio e non il diavolo questo è quello che fa Amodeo desidera morire in se stesso perché viva Dio a posto suo deve poter imporre la verità di Gesù sulle altre fedi ma avvalorandole e infatti Ra riesce a dimostrare il primato di Gesù che afferma l'unità di Dio una e trina proprio coerentemente alla relatività generale di Einstein cosa che le altre fedi non hanno fatto essendo meno perfette ogni fede è vera ma si appoggia su un limite il presupposto che è posto alla base di ogni fede solo la fede in Gesù Cristo ha la pienezza dei presupposti Ra deve dimostrare vero conscienza quanto richiesto dalla fide set razio di Papa Giovanni Paolo II ossia che Gesù ha assolutamente ragione e lo fa attraverso le stesse ragioni che io vi ho spiegato finora che sono tutte ragioni confermate dalla scienza che sono magistralmente ricondotte a Gesù serve che Ra abbracci la sua croce ma nella verità di Gesù e infatti Ra lo ha fatto per sostenere la fide set razio ha abbracciato la sua croce pronto perfino a morire ma serve anche che la Chiesa abbia accettato di crocifiggerlo e infatti questo è accaduto perché la Chiesa cattolica dalla provvidenza di Dio è stata costretta a condannare a morte due volte Ra così come era già accaduto a Gesù Cristo come vedete tutti i segni che abbiamo detto finora sono state opere divine ricondotte tutte alla stessa verità di Gesù Cristo vediamo ora i segni legati agli eventi della vita necessità generale che ogni cosa che vi sia di relativo sia relativo a quanto in Romano è assoluto nel contesto reale quando Romano nacque ci fu una luminosa aurora boreale nel Cerro d'Europa la più luminosa che c'è stata a memoria d'uomo fantastici splendori nella notte per una tempesta magnetica siderale i segni di come sarebbe dovuto essere alla ricomparsa sulla terra della verità di Dio sotto l'aspetto umano c'è un volo trascendente da un mondo all'altro del figlio di Benito Mussolini come del figlio dell'Onnipotente questo volo ha uno dei tre aerei che è costretto a scendere a Natal perché una elica si era bloccata così che arrivano solamente due aerei in segno dei due che si sarebbero ripresentati in Romano arrivano nel volo Rome-Rio in via Pomerio in Romano tutto quanto accade oggi nel mondo dovrebbe ruotare e ruota attorno alle azioni di Ra le due torri gemelle sono il segno della chiesa cattolica che è andata contro al tentativo di Romano di erigere le due torri gemelle di Dio la fede e la ragione la nascita di Gesù dovrebbe riferirsi a Romano e infatti San Matteo racconta di lui tutto questo che è scritto e che è descritto in relazione all'avvento affelitto è stato proprio annunciato da Gesù quando morì e disse Elì Elì le ma sabachtani dicendo le ma sabachtani mise in luce tutte le macchie lo avrebbero contrastato Maria Martini Carlo Maria Martini non Enrico qui c'è un errore c'è una prova matematica che Dio ripresentatosi si sarebbe ripresentato nel 25 gennaio del 1938 una prova veramente perfetta anche la nascita di Gesù è conforme a questa prova dipende dal quadrato di 0,35 il Natale di Gesù deve essere conforme a come risulta ora e non secondo il Vangelo di San Matteo che lo retrodata Romano deve avere veramente sconfitto la verità della morte infatti lo ha fatto nell'ambito religioso nome cognome giorno mese anno devono essere quelli che rappresentano la genesi divina in Ra espressa nella Sacra Bibbia la chiesa cristiana dovrebbe avere già scelto questo 25 gennaio e infatti lo ha fatto dovrebbe già avere accomunato la nascita di Gesù di Romano e infatti lo ha fatto dovrebbe avere già riferito tutto alla nascita di Romano e l'ha fatto il primo Vangelo di San Matteo dovrebbe riferirsi a lui e infatti si riferisce a lui San Matteo stesso in persona il cui cadavere è trovato a Elea San Marco si deve riferire a Romano il profeta Isaia si deve riferire a Romano Giovanni Battista si deve riferire direttamente a Romano San Giovanni Apostolo dovrebbe essere arrestato fino al giorno di Gesù tornato in Ra e infatti così appare nell'ultimo nell'epilogo del suo Vangelo la pesca miracolosa dei 153 pesci si riconduce infatti a una presenza binaria San Giovanni nell'epilogo del suo Vangelo dovrebbe trascendere divinamente Ra e infatti lo fa perché descrive quello che è accaduto personalmente al Romano e che è appatito da un Papa che non si è comportato come quel Papa che dovrebbe essere secondo Gesù che gli disse mi ami tu e San Marachia lo conferma i 153 grossi pesci sono conformi a quelli di Fatima che durò 153 giorni Nostra Signora di Fatima dovrebbe essere piegata a questo il miracolo del sole dovrebbe essere piegato a questo e infatti è così la stessa Madonna di Fatima dovrebbe avere dato gran risalto al giorno Natale di Ra e l'ha fatto lo disse quando vedrete un grande luce sarà il segno il rosario rimedio al casigo dovrebbe essere riferito al rio di Salerno il rosario dovrebbe essere il soggetto del Ra rosario e conversione richiesti a Fatima dovrebbero riguardare proprio la famiglia di Ra e così è infatti sono quello che è accaduto per tre generazioni alla famiglia di Ra anche nel territorio il Cilento e tutto quello che accade in questo territorio si riferisce virtualmente al ritorno di Dio nel Cilento il rio Calore che dice Calore l'Egitto è l'ego di un romano eletto FI Spirito Salerno si riferisce a Salem Vietri sul mare si riferisce a un Vietris Ultimo Mare tutto si riferisce al ritorno di Romano nel contesto dei governanti Gesù dovrebbe essere stato già lui il massimo leader romano e così è Gesù dovrebbe aver dato vita a un morto proprio il nome dell'Italia e lo fece quando disse Talitacumi il Dio Ra nasce in via Pomerio e deve essere il miracolo proprio di un Dio Romano perché Pomerio era un'area votata al Dio Romano Emanuele l'imperatore del nuovo impero romano deve alludere Romano l'Emanuele III come il segno di una trinità di regnanti ma anche la famiglia di Benito Mussolini che ebbe quattro figli maschi e il primo fu diseredato come l'ultimo Albino Darser e che rappresenta invece tutti gli altri quattro tutti gli altri tre il figlio dell'onnipotente è rappresentativo proprio sotto il profilo di quello che accade nella famiglia del potente in Italia in relazione a proprio quello che accade in segreto in romano ma ciò si verifica anche nell'ambito familiare diretto di Romano infatti la famiglia di là è coinvolta in questa rinascita dell'impero romano c'è un grande legame a Maria e per tre generazioni da parte degli Amodeo un legame sempre più preciso che passa da Maria Bonamore innocente a Maria a Maria Annina la famiglia Baratta dovrebbe essere stata oggetto di una divina etrina cristiana epifania ed è stata all'ustra di Montestella dove ci furono tre grandi maestri a preparare il padre di Romano dovrebbe essere proprio il segno del padre nostro e infatti ci sono tutti i motivi per apparire uno spirito santo eletto ma specialmente la madre che ha dodici ragioni per apparire un nuovo segno della madre di Dio nell'ambito di quant'è necessario il Natale di Romano deve giustificare San Matteo il castigo di Dio deve essere accaduto al Natale in là il castigo di Dio deve essere proprio Dio che si ripresenterà Romano deve avere sposato Gesù come padre e spirito santo che sposano Gesù e così appare in modo trascendente Romano come Gesù in azione deve avere fatto veri miracoli e accadde questi elencati sono vere cose impossibili non potevano accadere eppure sono accadute in quei tre anni dai 30 ai 33 Romano come Gesù deve essere morto in sé a 33 anni è accaduto Romano deve essere risuscitato in Cristo ai suoi 33 anni ed è accaduto è risultato proprio in Cristo deve essere stato davvero il nuovo orto degli ulivi il suo orto nuovo e infatti anche il nome Getsemani si rievoca in Saccomani ortonovo è un luogo in cui deve passare la luce deve essere un punto forte della terra d'Egitto deve essere coinvolto con il racconto biblico in Genesi 38 tutta l'opera di Romano deve essere rappresentata da questa costruzione reale deve essere assolutamente nei nomi indicata proprio dai nomi giusti giusti e così è tutta l'opera di Romano deve avvenire da chi sembra intanto fare veri e propri miracoli ma Romano deve averle fatti proprio nell'ordine di quelli che sono intesi come miracoli reali la chiesa cattolica deve essere stata informata da Ra che gli abbia detto è accaduto in me sono io e infatti la stampa locale lo ha detto di sua iniziativa occorrerebbe che Ra avesse fatto vere profezie e ce ne sono state sono elencate qui le maggiori ma tutte trascendenti sembrano fallite Romano deve aver avuto il triplo dei dodici apostoli di Gesù deve aver avuto un triplice calvario di tre fallimenti e li ha avuti deve aver avuto una grande quantità di ignari spettatori e li ha avuti a Monte Silvano quale segno di un intero calvario dovrebbe avere veramente messo in croce tutta la sua vita e lo ha fatto dovrebbe aver avuto un seguito di Maria Maddalene dovrebbe avere oggi un suo Pietro dovrebbe avere tre nuove Sion e sono Salerno Saronno Montesilvano Salerno a tutte queste ragioni Salerno ha tutte queste ragioni la Madonna di Miracoli sempre sua dell'architetto Amadeo e lui è l'architetto Amadeo a Monte Silvano deve essere accaduto un qualcosa di significativo ed è stato il massimo fallimento nell'attesa di un miracolo in Italia proprio il giorno in cui Romano decise per il suo fallimento verso la resurrezione quale segno di Cristo dopo la croce occorre la resurrezione e c'è stata la resurrezione corta accogliate ricominciando da Saronno quando Romano apprese dell'enciclica Fides et Ratio con la quale il Papa lo lanciava come un messia ma ci devono essere state le dieci nuove necessarie piaghe d'Egitto la prima l'acqua mutata in sangue la seconda le rane la terza la quarta le quinte ci sono state tutte sono indicate qui le date in cui si sono verificate nuove dieci piaghe perché la vita di Romano è la vita di un nuovo Mosè che è sorta nel momento in cui si attende il passaggio da un mondo all'altro proprio in relazione a quel famoso dodici del 2012 nel giorno 21 alla fine del 21 ma esistono segni proprio di un contrasto attuale tra la chiesa locale e il papa romano dovrebbe essere giro romano deve essere qualcosa di reale insomma ci deve essere un segno conclusivo quale lo vedete pagina 266 passiamo ora ai segni straordinari sono di tipo messianico e di tipo cabalistico li vedremo molto velocemente quelli di tipo messianico sono in relazione proprio alla manifestazione personale di Gesù la Madonna e della voce di Dio che si sono ripresentati in persona a Romano Modeo ma poi ci sono quelli legati alla cabala che dimostrano come in tutti gli aspetti possibili e immaginabili legati alla nomenclatura ci siano segni in dubbi sul fatto che Dio si possa essere ripresentato nell'esistenza con il nome ideale che potesse essere il nome a cui fossero riconducibili tutti i nomi che Dio ha assunto nella religione con la quale si è offerto alla fede nel mondo l'aspetto legato alla cabala è l'aspetto più interessante qui sto facendo passare in un modo molto molto veloce le varie sezioni di questo controllo perché voi potete se siete interessati bloccare l'immagine e studiarvela una per una ma qui interessa intanto la evidenza di un piano che sia assolutamente completo che possa mostrarvi la mole di tutte le possibili questioni inerenti la ripresentazione nel nostro mondo reale della verità trascendente che possa aver assunto le caratteristiche somatiche di una persona creata appositamente per rappresentarla l'aspetto più saliente riguarda il nome segreto di Dio che secondo la cabala ebraica avrebbe dovuto essere un nome di 42 cifre ebbene il nome di Ra ha esattamente le 42 cifre ma tenendo presente esattamente il modo con il quale Dio si è presentato all'uomo quello della Bibbia dell'Antico Testamento e quella del Nuovo Testamento infatti nella Bibbia è scritto che Dio ha creato il mondo in sette giorni ma nel Nuovo Testamento Dio ha assunto la persona uguale e distinta una etrina di conseguenza un nome riferito a Dio deve prevedere il lavoro di sei nomi e alla fine di ogni nome ci deve essere il giorno del sabato in un'opera complessiva che riguardi sette nomi in modo tale che le cifre realmente al lavoro siano solo 36 e siano proprio quelle opportune che possono presentare caratteristiche assolutamente eccezionali come per esempio che il primo nome deve essere la sommatoria del numero 11 che è il ciclo di 10 unità 10 è il numero che è il padre di tutti i numeri ottenuto attraverso il logaritmo della potenza di quella base che moltiplicandosi una o più volte con se stessa determina tutti i possibili numeri decimali ebbene in questo modo il ciclo di 10 unità ossia 11 quando calcola la sommatoria ossia 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 è uguale a 66 ed è esattamente il primo nome romano quando si passa al secondo nome diventa la sommatoria del 12 quando si passa al terzo nome diventa il terzo del secondo nome quando si passa al quarto diventa come dovrebbe proprio tenendo conto di una perfezione di relazioni che possono portare all'ultimo nome come al primo e infatti l'ultimo nome è esattamente uguale sotto il profilo cabalistico al nome e cognome al romano modeo uguale esattamente a torquato insomma da tutti i possibili controlli di questo tipo risulta che Dio se poteva assumere un nome perfetto avrebbe potuto assumere solo questo ma vediamola così velocemente nel passare tutta questa serie di documenti di documenti il nome è un numero e infatti a ogni nome corrisponde un numero si dimostra come dal valore 10 vengono fuori tutti i 5 nomi e qui si esamina il primo nome romano in 28 necessari requisiti che deve avere per poter essere veramente un ente puro di tipo numerico che possa valere come tutto quanto possa essere attribuito a Dio anche nelle forme della Bibbia in cui Israele è il nome assunto da Dio attraverso il suo popolo poi si esamina il secondo nome Antonio Anche questo è un numero puro infatti deve valere come il ciclo 10 assoluto messo in relazione al secondo nome quindi come la sommatoria del numero 12 e infatti Antonio è uguale a 78 che è la sommatoria del 12 sommatorie badate bene che sono valori fattoriali quando considerate i numeri sulla base 10 che li determina il terzo nome Anna che è proprio quello uguale a Dio è il nome proprio della nonna ossia della terza generazione messa in relazione a Gesù ed è un nome che è il terzo in romano il quarto Paolo è il nome che rappresenta la dimensione quattro che è quella legata all'unità e trinità di Dio che è quella reale e vediamo che il quarto nome Paolo ha tutte le condizioni reali per rappresentare tutti gli altri nomi di romano proprio nella loro valenza reale il quinto nome torquato essendo l'ultimo nella logica cristiana in cui l'ultimo è veramente il primo deve avere la funzione rappresentativa nel termine del primato messo in relazione al primo nome al secondo nome al terzo nome al quarto nome al quinto nome e all'ultimo il cognome il cognome essendo comune a tutti i nomi deve esprimere il casato della comune appartenenza e vediamo come ciò sia verificato questo che state vedendo corre corre troppo per poter essere valutato a questa velocità mentre queste campane di festa si accompagnano ma voi potete bloccare tutto ciò questo esame che state vedendo ora accoppia in tutti i possibili modi i cinque nomi se sono veramente dei numeri puri rappresentativi di una presenza assoluta ideale come quella riconducibile a un dio il risultato che deve venire fuori deve essere proprio puro per come lo rappresentano i numeri per esempio tre più cinque deve essere sia compatibile con la somma otto sia con il 35 insomma se sono numeri puri devono rappresentare rapporti puri qui c'è il dettaglio di tutte le condizioni quando i nomi sono tre e allora in tutti i modi possibili in cui sei nomi possono essere visti in terni se sono nomi indici di valori puri devono rappresentarlo anche nella organizzazione trinitaria in terni e qui c'è l'esame di tutti i possibili modi di raggruppare i sei nomi in gruppi di tre e si vede e si dimostra come il risultato è assolutamente tale da far capire che questi nomi sono veramente nomi indici di valori puri numerici puri proprio in corrispondenza al numero come un dio ro quel chi ro che mentre è Cristo è anche il dieci romano chi come la x pi che poi è la ro l'esame è veramente completo se voi volete esaminarlo potete riferirlo alla vostra attenzione bloccando l'immagine e studiandovi l'insieme disaggregato nelle varie unità ora sono visti quattro nomi messi insieme come una quaterna sulle sei e quindi sono considerate tutte le somme tutti i contributi simultanei che derivino dalla loro associazione e ancora una volta si può constatare come questi nomi si comportano come se fossero veramente quantità pure della matematica perché se io parlo del numero 4 il numero 4 deve corrispondere proprio al nome Paolo e ci devono essere rispondenze tra il valore alfanumerico di Paolo e il valore assegnato al numero 4 e così via qui tutti i valori alfanumerici assegnati alle varie parole dei nomi devono essere analoghi a quelli espressi dal puro numero d'ordine dei vari numeri qui c'è il dettaglio a 5 nomi su 6 dal quale risulta la complementarietà dei 5 nomi messi in relazione al sesto che manca c'è infine la pienezza dei sei nomi che deve corrispondere a un valore assolutamente pieno riferito esso pure ha un suo complesso di riferimento che sia quattro volte e deve essere riferito a genesi 38 questo nome se è un nome che ordina deve ordinare tutto l'essere per numeri e qui c'è la dimostrazione di come accada la dimostrazione se la studiate bene è convincente sono verifiche globali ma che sono in una linea che porta a un convincimento qui c'è e poi il modo con il quale tutta l'organizzazione del numero incida nella realtà del mondo la dotazione di tutto il nome veramente regola il mondo ordinando i primi sette giorni poi la presenza del dio unettrino e così via infine c'è il riscontro di tipo alfanumerico ma messo in relazione a ogni primo della storia sacra da Adamo che sembra andare ad amo come un progetto ripartendo da ab ramo che sembra venire da romano modeo ogni primo veramente sembra essere oracolo della presenza di dio in un ultimo che è talmente ultimo da essere assolutamente irriconoscibile questa è la differenza tra questa presenza di dio e la presenza di quando si mostrò attraverso il figlio il figlio fu gratificato di una probante capacità di dominare la natura qui il dominio è solo riferito alla ragione alla verità perché la persona invece presentatasi è stata proprio come quella di Maria che pur essendo la madre di Gesù nella sua vita non ha fatto nessun miracolo il padre e la madre hanno una ragione d'essere di essere padre e madre se lo sono messi in relazione a un figlio quindi quando il figlio si ripresenta nel padre non si ripresenta per togliere la gloria al figlio ma per avvalorarla per dimostrarla vera per dimostrarla potente miracolosa ma non attraverso la sua personale capacità di compiere miracoli gli unici miracoli che sono compiuti sono quelli che sono davanti ai vostri occhi sono i miracoli della ragione che sono